Buongiorno, benvenuti a tutti a Paro, sotto lo zone di Paro, il castello principale, nel bellissimo regno del Bhutan. Invito tutti quanti a venire in Bhutan in special modo a organizzare un viaggio in questo splendido regno dell'Himalaya con Bhutan Tour. Questa compagnia, questa agenzia vi organizzerà un viaggio perfetto e potrei dire indimenticabile, un'esperienza che vi cambierà da vita per sempre. Invito a venirci e a divertirvi. Organizzeranno tutto per voi, a partire dai biglietti per arrivare nel regno e per tutto il viaggio che sarà sia, si toccheranno i principali punti a seconda della lunghezza del viaggio e poi si farà un viaggio anche più personalizzato a seconda delle vostre esigenze, delle vostre richieste, delle vostre curiosità. Si può passare dal trekking a una cosa più spirituale, perciò che si tratta i templi, è più storica, perciò i castelli e così via. Arrivare in Bhutan non è per niente difficile e nemmeno costoso. Ci sono un paio di voli che vanno dalla Thailandia, dall'India o dal Nepal e poi si arriva qui a Paro e poi da qui si comincia il viaggio a seconda della durata del tempo, dei giorni, direi una settimana almeno, si copre una buona parte del paese e poi così via. Vi invito nuovamente a tutti quanti a viaggiare qua perché la gente è in un special modo ospitale ed aperta, il cibo è ottimo e salutare nonché tutte le materie prime arrivano più o meno da qua, arrivano sui locali e così via. Entrate come stranieri ed uscite come amici, perciò vi invito tutti quanti a venire in Bhutan e in nuova come BhutanTour se possibile. Ringrazio a tutti e a presto! Cazzo cazzo cazzo!